Lasciate allo sbando, vogliamo rispetto ed equità. I cartelli di protesta e i cancelli del municipio di Chioggia li hanno affissi gli agenti della Polizia Locale che denunciano una disparità di trattamento e di carichi di lavoro tra colleghi nella turnazione festiva domenicale. Faliti i tentativi di conciliazione in prefettura, la funzione pubblica della UIL e la RSU del Comune di Chioggia hanno proclamato lo sciopero della Polizia Locale. I lavoratori vogliono lavorare con dignità e vogliono lavorare in maniera equa. Non può essere che chi organizza questo servizio, ovvio il comandante, abbia di fatto diviso il corpo in due tra chi lavora in ufficio e chi lavora all'esterno e il carico domenicale è scaricato solamente su chi lavora all'esterno. Insomma tra giugno e settembre da un lato c'è chi lavorerà solo tre o quattro domeniche dall'altro chi invece di domeniche a lavoro ne trascorrerà 13, 14, 15, forse anche 16. I problemi della Polizia Locale non sono esplosi adesso, sono problemi di vecchia data e noi abbiamo già iniziato un dialogo anche l'anno scorso insomma con il sindaco. Sicuramente il sindaco avrà un ruolo cruciale nel risolvere questa situazione e ospichiamo appunto di iniziare a riprendere anzi immediatamente il colloquio. In questi giorni il comandante non è in città, intanto forte anche di una lunga militanza nel sindacato di Polizia, il sindaco di Chioggia Mauro Armelao appare il candidato ideale alla mediazione nel rispetto dei compiti di ognuno. La politica dà le direttive politiche e il comandante con i propri ufficiali collaboratori gestisce la parte dell'organizzazione dei servizi. Visto che sia arrivati appunto lo sciopero mi prenderò in mano in prima persona questa situazione però chiedo chiaramente che la stagione estiva sia quantomeno terminata. Intanto però a Chioggia c'è polemica anche sulle precettazioni allo sciopero in quanto servizio pubblico essenziale. Cinque agenti mentre secondo i sindacati dovevano essere quattro.